Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori soffiatori. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cutlim qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Eynel 3.433.533 soffiatore. Troviamo un soffiatore a batteria, in particolare da 18V 2.0A. Eynel è un marchio riconosciuto a livello internazionale e dedicato alla produzione di utensili elettrici per attività lavorative e ricreative. Tra i vantaggi del soffiatore suggerito proprio qui abbiamo un peso eccezionalmente ridotto. Appena 1,73 kg, oltre a un'impressionante semplicità d'uso. Tutto quello che devi fare è fatturare la batteria troppo presto, posizionarla nella porta della batteria e iniziare a soffiare gli ometti del cortile. Al numero 4, abbiamo Black Pudecker GW3030QS. Il prodotto in seconda impostazione è invece un soffiatore elettrico suggerito da Black Pudecker, un marchio riconosciuto per la produzione di dispositivi di alimentazione. Tra le offerte suggerite di seguito è il vantaggio di essere il soffiatore più conveniente. Una variabile da considerare se si dispone di un allocare limitato questa acquisizione o non si intende utilizzarlo intensamente. Con una velocità di soffiaggio variabile. Al terzo posto, abbiamo la Husqvarna soffiatore. Il 580 BTS è il soffiatore più efficace nella brocciura di Husqvarna. È un modello professionale che dipende dal motore X-Torch da 75,6 cm³ e dalla capacità di espellere l'aria 92,2 ms, motivo per cui può anche spazzare via la neve. È pesante, dovrai rotolare oltre 12 kg di peso sulle spalle se conti allo stesso modo che il carburante aveva nel suo grande serbatoio di toccaggio. Al numero 2, abbiamo il Eco PB770, soffiatore. Il modello Mirror PB770 è un soffiatore robusto tuttavia allo stesso tempo comodo da usare considerando che è messo su simile a uno zaino, riempiendo il peso del motore elettrico sulle spalle, che è di circa 10 kg, evitando così di doverlo trascinare con una mano che tenta più duramente del necessario. Se sei preoccupato per il troppo riscaldamento che potrebbe essere davvero sentito direttamente sulla schiena durante l'uso. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il soffiatore Husqvarna. Il soffiatore Husqvarna, un marchio svedese che si occupa di attrezzature da cantiere e a filiali in altri settori, ha una spesa media superiore a vari altri prodotti nella nostra posizione senza dominare il primato del soffiatore più costoso. Tra i suoi vantaggi più evidenti c'è la sua dimensione, anche se è un prodotto con un motore a combustione da 28 cc sostenuto dal mix, non ha un peso eccessivo. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.